Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vi mostrerò sto muletto L'ho comprato apposta per far finta che prende le auto da demolire e che le mette una sopra l'altro Ne ho pure un altro che adesso non si sa dov'è Ah, che non si sa proprio dov'è, può darsi che è finito qui sotto Vabbè, ve lo mostro L'ho comprato da Toys qualche annetto fa Come potete vedere può cambiare pure posizione Adesso è così Adesso è così E poi si abbassa Ciao